Penso che Rinnovo sia stata la scelta giusta in questo momento per come mi ha accolto la società, per come mi trovo con i miei compagni, per la fiducia che mi sta riposta in me e soprattutto per il progetto di questa società. Sono felice di aver rinnovato il mio contratto con il Monopoli e i miei obiettivi personalmente sono soltanto un punto di inizio, devo ripartire da qui, il rinnovo può essere una gratificazione al lavoro fatto in quest'anno e in questo ultimo periodo e quindi devo soltanto aumentare l'asticella e dimostrare ancora di più quello che posso fare, aiutare i miei compagni in ogni partita che giocherò per loro. Il mio obiettivo è diventare leader, ma essere leader secondo me è anche dimostrarlo in campo, spero di diventare leader in campo nel senso che i miei compagni possano contare su di me e io cercherò in ogni partita di essere un uomo affidabile, di fare la differenza quando potrò e quindi se questo è essere leader è anche il mio obiettivo.